Musica Bella raga, ciao a tutti dal comendone veneziano Fly Simulator, giro del mondo Tappa 31 Da Tunisi a Rabat Quindi dalla Tunisia Al Marocco Bene raga, allora Io direi di partire subito Siamo tornati con l'F18 E andiamo Andiamo E ormai Mancano 20 26 rote, insomma ne mancano Ancora Vai che andiamo Ragazzi, momento super quark Allora, stiamo sconfinando La 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 Stiamo sconfinando in Algeria Allora, oggi facciamo Tunisia, Algeria e Marocco Quindi praticamente sorvoliamo solo l'Algeria Allora, la capitale di stato della Tunisia è Tunisia La capitale di stato dell'Algeria è Algeria La capitale di stato del Morroco è Rabat Sono circa le 19.30 C'è quasi il tramonto qui in Algeria Il mar Mediterraneo è bellissimo Il cielo è meraviglioso Tutto è stupendo Un saluto da Piero e Alberto Angera Raga, siamo nel cuore dell'Algeria Sì, nel cuore nord dell'Algeria Siamo, penso, vicini ad Algeria Non siamo tanto distanti Ma ragazzi, sono depresso Cioè, ormai mi hanno lasciato da solo Cioè, ormai i video di Fly Cioè, tutti i miei amici mi hanno lasciato da solo Cioè, nessuno mi vuole più Perché in realtà io registro orari impossibili Come il 1-2 di notte Però, cazzo Tutti che mi hanno abbandonato, veramente Cioè, io non ho parole Don't not parole in vero inglese Veramente Sono schifato da questo No, comunque, raga Tra poco iniziano le rotte fighe Quelle in Sud America e Nord America E là Cioè, se non ho Se anche là Tutti mi tirano pacco Non viene nessuno, veramente Cioè, banno tutti da YouTube Da Facebook, basta Il Piada Sub Il Bode Il Medi Tutti quanti, basta Tutti bannati da Li metto nella mia blacklist, ragazzi Quindi, è ufficiale Ai, ai, ai Ragazzi, sono stanchissimo Che polle Però, tra poco, ferie Si gode, si gode Siamo in Marocco Pa, 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 pa Ragazzi, per chi vuole fare una piccola operazione a Casablanca Mi contatti a questo indirizzo e-mail Facciamo i cazzi Chiocciola Hardhotitfac.com Quindi, insomma Chi vuole fare una piccola operazione Può contattare questo Questo Quest'e-mail Ascolta, raga Qua, quanto manca? 200.000 Ormai ci c'è Siamo vicini, dai Siamo vicini a Rabat Che bello Dopo c'è Rabat Dakar E poi si va Dakar-Brasil E si va in Brazilella La 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 Allora, qualche cenno storico sul Marocco Sì, bene In Marocco c'è il deserto Ci sono tanti cammelli È andato mio zio E che altro? Non lo so Ragazzi, sono poco ispirato Cioè, sono troppo stanco Il lavoro mi sta massacrando Ormai veramente Sono Ho vinto il premio Miglior vanneggiatore Youtuber Del 2012 Perché Più coglioni di me Non c'è nessuno Veramente Mi faccio schifo da solo Ragazzi Cioè E va bene Ecco, questa è la vita Però devo dedicare una canzone Ragazzi Devo dedicare una canzone E allora Vediamo un po' Oggi ho voglia di dedicare A tutti In particolare A una persona Una cosa dedichiamo Oddio Ecco Panico Della diretta Panico Della diretta Dedichiamo Dedichiamo Che cazzo Meravigliosa creatura Di Giannona Rannini E questo è dedicato Anche al Milan Chiaramente Un po' a tutti Comunque Meravigliosa creatura Di Giannona Rannini Meravigliosa Creatura Ma senti che voce Ragazzi Veramente Cioè Devo andare a Sanremo Qua Non c'è storia Il cumendone a Sanremo Pollice in su Per il Ora Se dicevo Facciamo così Più di 70 mi piace Faccio un vlog Dove canto una canzone Lo giuro Quindi Con più di 70 mi piace Faccio un vlog Con una canzone D'amore Perché io ho solo canzoni D'amore Ragazzi Eccoci qua Siamo a Rabat E sono praticamente Non sono in linea Grandissimo Che bello Ma porca puttana Io mi sono addormentato Come un coglione Ragazzi Da una vita Faccio un atterraggio serio Con l'F18 Madonna no Fioi Sono una pippa Sono una pippa Indescrivibile Guarda che veloce Fioi Ciao Ciao raga Ciao Ciao ragazza Ciao bella No questa canzone Maglio non cantarla Però eh Dai 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 Freda 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 Ma porca puttana Un 360 No 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 Ma no Sono una No Frena Frena Vado per campi Vado per campi Vado per campi Non ho parole ragazzi Non ho parole Ma che cazzo No fioi Mi gira nei coglioni Non esiste fioi Il comendone non può fare S'atterraggi Vola Vola Con tanto fiato in gola Mio nonno si innamora La 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 Vola Allora Concentration please Concentration Robot center Robot center Autorizzazione All'atterraggio Affermativo Allora Vado al mare Che bello E facciamo un giretto per rabate Fioi No raga Oggi vado di cazzeggiare Cioè Oggi il comendone Vado di cazzeggiare Come non mai Guarda che bella Guarda che città Una città Praticamente rimagrita Una città piatta E in dieta Mamma mia Che merda E adesso però Voglio fare l'atterraggio La pro Con l'f18 Pu pu Dai Solo per voi No Merda Vado in stallo Eccolo qua Eccolo qua Eh adesso lo faccio bene Me lo sento raga Solo per voi Ormai siamo quasi 2000 iscritti Che bello Che bello Come fate A sopportare il comendone Non lo so Ecco Ora il numero comendiano Ecco il numeraccio Comendiano Guardalo 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 Lo direttamente è il gate Guarda che roba Che comendone Guardio 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 Guarda che roba Dai Sono proprio giusto Sono Mamma mia Dai Frena 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 Andiamo per camping Voglio andare a vivere In campagna Devo farlo ragazzi Devo fare l'alterraggio buono Madonna Non gioco da una vita Come sono preso Ragazzi Terzo Se vabbè ciao Terzo tentativo Ragazzi Terzo tentativo Ok Sterizzata come indiana Ok Eh questo è quello giusto Me lo sento Me lo sento Me lo sento Merda Merda Prena Stronzo del cazzo Frena Frena Vomito Mamma Ragazzi Cioè Scusate Ma L'alterraggio più brutto Del pianeta Cioè ragazzi Purtroppo Come si dice Non gioco da tantissimo Sono un po' scazzato Non Mi ricordo Sì però Con l'f18 Veramente se non giochi tanto Fai fatica a sbagliare A far giusto Quindi va buono raga Che sta rotta andata La number 31 31 In tedesco si dice 31 Yoh E niente La prossima è Dubai Dakar Alla prossima Ciao Ragazzi Ho bisogno di qualcuno Per Fly Simulator Non ce la faccio più